www.feyyaz.tv va bene la giro volta come si c'era 3 è dura guarda guarda un'altra indagazione per queste fuche non lo sto vedendo guarda guarda il pescione che c'è là la pettinbio d'ammuco guarda gli argomenti il signore guarda non ce l'ho detto con questi signori è ormai pulito all'acqua? no, per uscire lo diamo per uscire mi pare che con le maniche la prescire e cernione piano orcozio bella perchè questa l'ho sentita tutta così madonna la gran bella orcozio e che fa? non te lo dicevo che è l'impressione tutto l'ho sentita l'altra e poi bella la ferrata ma bellissimo cominciamo il nostro anno come si deve con un bel bestione una bella bestia oh si stanca? no, alla mia pare che sta andando tu che è piscina nand che è piscina nand si e piscina nand vai vai staccalo 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 da delle gran testate è un panaggio è però che gran testate ne sta dando lui, non può resistere se dalle testate sta merda va, va, va eccolo, eccolo eccolo, eccolo sta bene sta venendo sta venendo che fai? lo fermi il motore? ora è uscito grande, grande è venuto? è uscito, è uscito è uscito, è uscito è uscito, è uscito ok, ok, ok che si è stappato Mario, che c'è di più grosso dell'altro rotto pure 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 innamorato, volta la vacca innamorato, volta la vacca innamorato, va innamorato Di più, di più! Di più! Di qua, di qua! Eh? Questo è normale Sacca nel nero E poi La scoglia da